La disperazione Sì, beh, non hai sottoscritto la mappa Vabbè Sì che l'ho sottoscritta Allora te la fa riscaricare da zero Aspetta, diamo al lupo Il pezzo più bello Noi ci mettiamo dall'altra parte Sì, mura resistenti, dai Ci sono gli assedi più fighi Bello, l'astrolabio con opzioni avanzate E andiamo a prendere il giallo Giallo-limone A me piace il limone Maiale e il cinghiale Il maiale e il cinghiale Allora, maialo e il cinghiale E' un incrocio tra cinghiale e maialo Logico, no? Qui non vi lamentate ci sono tutte le risorse del mondo Sì, ma bisogna vedere l'area L'area di costruzione è enorme Dovrebbe Ah, sì, in effetti è vero Bene, allora posso fare un muro qua Prima di fare le cave Sempre meglio fare il cinghiale Mi sembra ovvio, Valzo Ah, non ho messo il granaio, scusa Non c'è abbastanza ovvio Non puoi farmi questi errori? Allora, voi avete un ponte facile da difendere, no? Contro il lupo Potete fare mura lì vicino al ponte Guardare la mano Ma è il territorio del ratto Il ponte C'e' uno da me E uno condiviso da voi Chi è il rosso? Ah Ratto azzurro Hai noto chi è il rosso? Tra l'altro io, cioè Vazok Sono ben difeso Ah Ah ok, Vazok Prima è molto strano Inizia già a presidiare i ponti Il ping Non l'hanno ancora messo, vero? Guardi no Il tipo La segnalazione, no? Per avvisare Gli alleati Ah, dici il segnale, no? Ok Mando i miei arcieri da te, dimmi Ah, manda tutte le truppe ai ponti Dobbiamo difenderli Io difendo questo Volevo Un messaggio dal ratto Adesso basta, Zoticone Ora avrai a che fare con i più fari Zoticone a me Ho dimenticato di fare la caserma dei mercenari Leoni, leoni Senti ai leoni Ce li avvicino dibe, i leoni Dove? Dove sono? Il nido di leone Sopra le vostre truppe Ah, ho visto Mando subito gli arcieri a sistemarli Dove stai mandando, Vazok? Sì, li sto mandando giù ad aiutare Key Basta da me, non fare fare tutto il gi... Bra Ma ti ho lasciato gli arcieri da noi Posso dire Ma tu devi difendere Il ponte quello che fa passare Quello che Quello che collega il ratto con... Ma lo so Dibe, però Keyn è da solo Mi mando qualche truppa ad aiutare A rallentare i nemici nel caso Ma vero me Dibe è così insensibile Non c'è abbastanza ora Siamo alla produzione di archi No Infatti Ando sui spadaccini a distruggere qualcosa E' esistente No Ah, che spreco Così che arabe riecheggiano Eh, oh Ehm... Ehm... E' un problema? No Se vuoi salire sulle mura va a zok Con i lanceri rossi Ehm... Il nostro granaio sta crescendo Siren La frase più inquietante del gioco Ehm... Immagini il granaio che... Lievità Dibe I poveri leoni Ma cosa? E' un pericolo Il granaio è vuoto Ma sti... Fornai non pronun... Ho i due panini? E io ho finito il legname! Allora... Adesso sto arrivando Panini per vazok E' dibe un po' di legname Grazie Grazie signor... 25 Ah beh... Sai quanto ci faccio con 25? Due taglia legna Tanto allora... Non è mai condito Ah ho capito! Ma 25 poteva andare bene in Stronghold Crusader 1 Ma qua 25 non ci fai quasi niente Non gli va mai bene niente Ma è vero! Non hai nessun diritto di mettere le mani sulla nostra nobile famiglia Pagherai per la tua ragazza Pagherai per la tua Però non ti sei lamentato prima quando ti ho dato tutto... Ti ho dato 250 cosciotti di cibo prima eh? Ma se me li ha dati Kay? No ti ho dato anch'io del cibo Ecco... Inizia le sue false Io non me lo ricordo No veramente ti ho dato del cibo Dopo che Kayn ti ha dato i panini Ti ho mandato 250 prosciutti Boh non li avrò notati arrivare Probabilmente me li ha rubati qualche ratto In mezzo Mi hanno bloccato la carovana Non lo so non li ho visti Eh si certo eh Mi ricordo i 500 panini Quello si Non ho visto... C'è ho notato che erano scomparse le tue truppe Quindi ho pensato che... Sono morte No c'è... Il bagnale mi aveva attaccato Come ti vedo? Vabbè Non capisco Boh non lo so di beh Non voglio confonderti E comunque sta arrivando il lupo Devo intercettare Un messaggio dal ratto Mi hanno detto che la vittoria era sconata Che mi ricordano i party a dire il vero Ma secondo me quello lì è un bug Anche quello lì che non si possono piazzare alcune cose sui ponti No perchè lo possono attraversare il ponte Stanno attaccando quei... Quelle truppe lì Eh non lo so ma penso che stanno venendo dritto da te Eh che... Che vengano pure Troveranno ancora nano che respira Si infatti sembra... Il posso di El Stanno attaccando Si vabbè la citazione è quando... Sono dentro a Moira 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 Alfe Moira Alfe Moira Alfe Moira Alfe No no stanno facendo un giro strano i suoi spadaccini Non so che giro hanno intenzione di fare Ma non è un giro furbo Si Decisamente Sono un po' deluso No no stanno arrivando da te invece Dibbe Hai qualche... Ecco Le torri vuote Eeeh Dibbe ma perchè non hai messo tutti gli arcieri sulle torri? Vendi la pietra Che bellezza Perché Perché ho mandato tutte le stupe a difendere i ponti Un periodo abbastanza rilassante Il Ratto manda i suoi uomini al suicidio Si anche qua Da me la situazione è piuttosto tranquilla Sto iniziando ad organizzare un esercito Eh io devo organizzare mille di fede I fuochi I fuochi I fuochi di Amondin sono accesi Le truppe del Ratto stanno attaccando E Roan risponderà Piacente me la chiamata occupata Riprovate più tardi Come distruggere un momento magico Eheheheh Frutta tutto questo territorio Costruisci Fruttamento di territorio Forza sbrigati Ma parla lui che c'ha tutta un'area vuota Eh Scusa Eh ma il mio è concentrato e lo sto sfruttando Ehi guarda che anch'io sono abbastanza concentrato Ma a te ci sono quattro casupole messe insieme C'è bisogno di armi Sire Ma guarda la tua città Che poi quattro casupole messe insieme Tu ne hai sei Io ne ho Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Non ci sono abbastanza bene Dove Dove Sono lì da parte alla roba del Anzi no Nei sette perché una era nascosta Volevi fregarmi eh Dove Io vedo Due cose per il cibo Due cose Quattro Sei cose per il cibo E due per il Per la birra Per litigare chi ha più grosso Avete bisogno di noi? Ho solo uno della birra Ah ok Che vuoi vivere vicino Adesso stai scopriando Ah no è Vanzo Sei tu Sei tu Vanzo che è rosso Boh Boh Sì beh chi stai guardando? Non lo so Eh ma qualsiasi città è piccola in confronto alla mia Eh 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 Allora, questo è il... Ma questa è la metropoli? Certo. No, questo è il maiale. Ma dove sei Kain? Cioè, la partita è iniziata da mezz'ora e non sai ancora dove sono gli amici e i nemici. Eh, fantastico. No. Ben. Ah, questo sei tu, Kain. No, questo è il rato. Quello in basso arancione. Ah, tu sei arancione? Ah, ecco. Ah, ok. Ho scoperto ora. È fantastico. In effetti. Venuto nella nostra partita, Dio. Ma io pensavo che l'arancione fosse il ratto.